Praticamente ha visto questo ragazzino che era sopra lì alla ringhiera praticamente e già ha capito che era pericoloso da lì. Però il bambino è riuscito a passare e è andato nel centro. Mio figlio è andato là e gli ha detto è pericoloso non devi stare qui. Il bambino è iniziato a andare e è caduto di sotto perché c'è la protezione. Ha perso l'equilibrio? Ha perso l'equilibrio e è caduto di sotto. Un miracolo, un caso, non si sa che cosa abbia salvato un bimbo di soli tre anni che ha fatto un volo di circa 4 metri cadendo dal tetto della scuola Collodi di Sansepolcro. Sul posto si sono immediatamente portati i sanitari del 118 che hanno attivato l'elisoccorso Pegaso per trasportare d'urgenza al mayor di Firenze il bimbo. Il piccolo di origine kosovana è rimasto sempre cosciente ma ha riportato un politrauma per questo è stato ricoverato in codice giallo. La scuola Collodi è ubicata all'interno del parco Campaccio. Al tetto della scuola si accede da una rampa di scale che si trova all'esterno dell'edificio e la zona funge da terrazzo. La dinamica dell'incidente è ancora tutta da ricostruire. La procura retina ha aperto un'inchiesta. Le indagini sono condotte dai carabinieri della tenenza di Sansepolcro che hanno già visionato le immagini delle telecamere posizionate nel luogo pubblico. Il bimbo pare avesse già tentato di salire sul tetto più volte ma poi sgridato dalla mamma non c'era mai riuscito. Una distrazione fatale non si sa. Saranno le indagini a verificare cosa sia realmente accaduto. Intanto il piccolo rimane ricoverato in osservazione ma non è in pericolo di vita.